A pochi giorni dal Natale le proposte della pastorale giovanile con eventi per adolescenti e giovani. Giornata di auguri stamane all'ex provveditorato di Verona, occasione per ringraziare tutto il mondo della scuola e per inaugurare la mostra permanente Il Palazzo dell'Arte. In questi giorni di corse veloci il senso profondo del Natale rischia di perdersi. Il presepe ci ricorda qual è la centralità di questa solennità. Siamo stati nella chiesa parrocchiale di Lugagnano di Sona. Un cordiale saluto a voi tutti, gentili amici, edizione del telegiornale di Telepace, che apriamo, come vi avevamo anticipato nei titoli, in apertura. Per quelle che sono le proposte della pastorale giovanile della Diocesi di Verona, con eventi dedicati a adolescenti e giovani, il tutto proiettato in questo periodo natalizio. Il servizio è di Lucio Fasoli. Sa per terminare l'Avvento, periodo in cui inizia l'anno liturgico, un riferimento per i cristiani che guardano verso il Natale come occasione di rinascita. Anche per i giovani è un tempo forte. Per questo la pastorale giovanile da sempre offre opportunità per fermarsi e riflettere in dialogo con Gesù che sta per nascere. Abbiamo fatto una proposta, in particolare per gli adolescenti, ma non solo, utilizzando poi i social, in cui abbiamo provato a condividere con loro quale può essere il modo di vivere l'attesa. L'attesa come avvento e Natale, quindi preparazione al Natale, ma anche l'attesa come un atteggiamento che sempre pervade la nostra vita, in particolare quella appunto degli adolescenti e dei più giovani. L'attesa di diventare grandi, l'attesa perché magari non tutto subito. Come l'hanno vissuta i giovani che si sono confrontati con te? Sembra una cosa che è molto piaciuta perché era qualcosa di breve attraverso anche delle immagini, delle piccole frasi in cui magari anche con una domanda dire ma io come sto vivendo l'attesa? Come erode che non vuole novità nella vita? Come immagini che si affrettano? Come altre persone che nella Bibbia o nella realtà quotidiana vivono l'attesa e l'aspettare qualcosa di nuovo e di grande in maniera molto diversa. Questo per la preparazione al Natale, dopo il quale invece partiranno alcune iniziative rivolte alle varie fasce d'età di cui si occupa la pastorale adolescenti e giovani, sia a Verona sia in altre zone d'Italia, come pure all'estero, tra Natale e l'Epifania. Lì faremo dei campi invernali per gli adolescenti, come è tradizione, i campi SAF di prima, seconda, terza e superiore quest'anno che mettono a tema solitudine e fraternità, che è un tema molto importante per gli adolescenti oggi, soprattutto in quest'epoca post-Covid. Proporremo di nuovo anche il campo ad Assisi per i 17 anni sul tema di essere artigiani di pace in questo mondo anche di conflitti e poi aggiungiamo un nuovo campo a Monaco per i 18 anni sul tema della libertà, della dignità della persona, anche confrontandoci con Dacau, con altre situazioni di grande buio nella storia, però vedendo in esse come c'è sempre stata qualche persona che è brillata, come una stella di qualche luce vera. E allora proveremo a capire come il Papa ci invita ad essere protagonisti in questa storia, non giovani seduti su un divano, ma protagonisti che portano in nome della loro libertà anche una responsabilità di essere protagonisti, appunto, portatori di bene in questa storia. Questa mattina appuntamento per gli auguri natalizi all'ex provveditorato di Verona, un'occasione per ringraziare tutto il mondo della scuola e inaugurare quella che è la mostra permanente intitolata Il Palazzo dell'Arte. Ce ne parla nel prossimo servizio Marina Zerman. Tempo di scambio di auguri anche all'Ufficio VII d'Ambito Territoriale di Verona, dove il dirigente Sebastiano Amelio ha ringraziato chi si impegna tutti i giorni per la scuola, un lavoro svolto con passione e dedizione a favore dei 107.000 studenti veronesi. La scuola è un punto di riferimento importante, lo è stato nella pandemia, adesso lo è con la guerra, una realtà in continua evoluzione, di ieri lo stop e cellulare in classe, da parte del ministro Valditara. Una bella occasione questa degli auguri di Natale per dire cosa? Beh, prima di tutto per ringraziare il personale di tutto l'ufficio del lavoro fatto in questo anno e per essere vicini a tutti in un momento di festività e quindi in cui gli affetti familiari sono molto molto importanti. Abbiamo visto il ministro, niente cellulare in classe, come commenta questo? Il ministro aveva intenzione di uscire con questa indicazione, ovviamente si tratta di una circolare, quindi sono indicazioni alle scuole che vanno quindi poi recepite e in qualche modo, tra virgolette, personalizzate nel regolamento di disciplina della singola scuola. Quindi è un quadro che il ministro ha voluto dare al quale seguirà poi l'applicazione delle scuole. Nel corso della mattinata è stata inaugurata la mostra permanente Il Palazzo dell'Arte del Lecceo Artistico di Verona in un'ottica di collaborazione tra l'ufficio scolastico e le scuole del territorio. Sono i nostri giovani che attraverso l'arte ci danno un messaggio importante, ci dicono le pandemie, la guerra, l'avete fatta voi adulti. Noi vogliamo la pace e vogliamo la nostra sicurezza e il nostro futuro anche verso il mondo, verso la terra e verso tutti noi. E durante queste giornate di corse, messaggi, relazioni veloci, il senso profondo del Natale rischia di perdersi. Il presepe allora ci ricorda qual è la centralità di questa solennità. Siamo stati nella chiesa parrocchiale di Lugagnano di Sona. È tutto qui, al centro del presepe, il senso profondo del Natale. Nella nascita di un bambino che ha illuminato il corso della storia dell'uomo in una prospettiva di amore e salvezza. Nella chiesa di Lugagnano di Sona il presepe ci riporta il messaggio essenziale della festa del 25 dicembre. Questo presepe quest'anno nasce, come sempre, dall'inventiva, dalla creatività di un nostro gruppo di parrocchiani con la passione per la costruzione dei presepi. Parrocchiani che con tanta cura si dedicano alla realizzazione. Infatti partono già mesi prima, quest'anno sono partiti già in estate, luglio-agosto, con il pensare come fare il presepio. e quest'anno, a differenza degli anni precedenti, i nostri presepisti hanno così voluto tornare un po' a un presepio tradizionale, in cui al centro, come si può vedere, c'è proprio la scena della natività, con Maria, Giuseppe e il bambino Gesù, proprio per indicare questa centralità, mentre tutto il resto fa da contorno, diciamo così. È il cuore del Natale e, come è già stato detto da Don Elia, abbiamo voluto mettere in evidenza maggiormente quest'anno la natività Giuseppe, Maria e il bambinello, proprio qui al centro, anche con l'acquisto di statue e di una certa grandezza. Perché? Perché è necessario ritornare al Natale, perché è proprio quel bambino che giace nella mangiatoia, che è il figlio di Dio, che ci offre la possibilità di recuperare il senso e l'identità della nostra vita, che è un'identità di figli e di fratelli, prima di tutto. E il secondo messaggio è che Dio viene, attraverso il suo figlio, ad abitare il nostro mondo, la nostra storia, viene ad abitare quindi nelle nostre famiglie, i nostri quartieri e soprattutto viene ad abitare nelle nostre relazioni, nelle nostre solitudini, nelle nostre gioie, nei nostri sentimenti, nelle tristezze, per portarvi la luce vera, che è quella della sua parola e il dono della sua vita, la vita eterna. Con il prossimo servizio ci occupiamo di un'iniziativa proposta da una ONLUS, la Monteverde, che opera nell'est veronese, che ha finalità di sostenere le tante attività della cooperativa sociale, che in questi giorni ha stampato e reso disponibile un calendario. È una vera esperienza il calendario realizzato dalla Monteverde, che nei 12 mesi dell'anno non vuole tanto comunicare temi legati alla disabilità, quanto piuttosto rendere protagoniste le persone diversamente abili in un'avventura speciale che sottolinea i valori e l'importanza delle relazioni. Monteverde è una cooperativa sociale che da 36 anni si occupa principalmente nel territorio dell'est veronese di erogare servizi alla persona, in particolar modo a persone adulte con disabilità e negli ultimi dieci anni anche rivolte ai minori, ai minori fragili ma anche ai minori che ogni giorno insomma fanno e frequentano le attività e i luoghi del nostro territorio, quindi dopo scuola, centri estivi e tutte le attività ricreative e riabilitative. Il calendario è uno strumento non solo di raccolta fondi, che per noi è importantissima per sostenere le nostre attività ma anche come strumento culturale perché ci permette di arrivare alla nostra comunità con tutti quelli che sono i nostri servizi e i valori che la cooperazione sociale vuole promuovere. È un modo diverso dalle attività che fanno quotidianamente per essere coinvolti nei progetti, in qualcosa di educativo, anche riabilitativo, che sia però anche divertente e poi un qualcosa che va a avere un impatto esterno anche verso i donatori, le persone che ci seguono e ci sostengono. La cooperativa in questi giorni è impegnata con i cesti natalizie e con l'avvio di altri progetti da gennaio 1 specifico per gli adolescenti del post pandemia. Anche le onlus mettono in campo abilità e competenze per autofinanziarsi e sostenere i loro progetti. Il calendario quest'anno sosterrà sia la parte dei servizi per persone con disabilità, adulte ma non solo, giovani adulti, ma anche la parte dei servizi educativi per l'area minori e le loro famiglie. Questo perché sono stati coinvolti proprio quest'anno sia l'una che l'altra parte, adulti e minori. Fare fundraising è stimolante, non sempre facile, però è bello perché può coinvolgere tutta la comunità e il fatto di trasmettere il concetto del dono e il calendario è solo uno strumento. Ci sono anche altre attività che facciamo durante l'anno, è quello che poi va a generare bene comune e si spera che porti al di là di Monteverde una società più coinvolta su tante tematiche a livello sociale. Il calendario è reperibile tramite mail scrivendo a donazioni chiocciola monteverdeonlus.it E' tutto per questa nostra edizione del telegiornale, grazie gentili amici per l'attenzione e buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.